Questo programma è offerto da Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702. Bambini, sì, bambini, siete pronti? Perché oggi c'è una ricettina per voi, si fa i biscotti con le gocce di cioccolato, dovete farli con le vostre mamme, con i vostri papi, con le vostre nonne e mangiarli per la colazione, per la merenda. Sapete che soddisfazione? Mangiare i dolci fatti da voi? Allora convincete la vostra mamma a farveli fare, li fate insieme. Procediamo. Mamme, nonne, babbi, preparatevi, eh? Allora, occorrono lo zucchero, si va a mettere 100 grammi di zucchero di canna e 100 grammi di zucchero semolato più un pizzichino di sale olè, si fa le magie oggi, eh, ci sono le pozioni magiche poi si prende del burro morbido e si va a lavorare con le fruste potete farlo anche nella planetaria, eh? amalgamato tutto per bene sciolto tutto si va ad aggiungere l'uovo ora si mette piano piano la farina 195 grammi e un pizzico di bicarbonato un pizzichino così e la farina un po' alla volta lavorando sempre con con le fruste con le fruste ancora piano 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 e si amalgama bene anche la farina a tutto l'impasto ecco amalgamato bene si mette le gocce di cioccolato così si prende le gocce di cioccolato si raccoglie tutto per bene si prende le gocce di cioccolato 200 grammi cioccolato fondente io c'avevo anche dei pezzettini sono a scagliettini potete mettere o l'uno o l'altro io c'avevo 100 grammi di uno e 100 grammi dell'altro l'ho mischiata ecco qua amalgamato per bene cosa si fa? si prende una teglia e con lo spallinatore lo metto nell'acqua e prendo dei mucchiettini e si va a metterli qui distanziati tra loro si mi sento un po' gelataia oggi e se i bambini vostri vogliano fare possano fare le palline prenderlo con le mani fare delle palline e metterle sopra va benissimo uno e un altro eccolo qua e un altro si vanno a mettere in forno a 190 gradi forno statico per circa 10-13 minuti circa ci vediamo quando sono cotti alia educational presenta katy super mega e le bombolette spray intanto mi avete chiesto come ottenere l'aumento di volume definitely katy super mega è in diretta con i suoi follower e sta per commettere un piccolo errore la mamma è finita attenzione questa si butta nel residuo le bombolette spray prive di simboli di pericolo non vanno nel residuo ah e che faccio la rimando a casa madre le bombolette spray una volta svuotate se non hanno sopra i simboli di pericolo come ad esempio tossico o infiammabile possono essere gettate negli imballaggi in tutti gli altri casi vanno portate alle eco tappe o agli eco furgoni o agli eco centri allora ragazzi la buttiamo negli imballaggi bella però seguimi pure tu questo tutorial che con questi capelli spiaccicati mi sembri un piccione ecco qua i nostri biscotti sono pronti bambini avete visto la magia? si prendono si mettono sono tiepidi però li dovete far raffreddare bene si mettono un profumino profumino di cioccolato opla si toglie si prende la magia del Natale lo zucchero a velo e guardate biscotti con gocce di cioccolato pronti golosi golosi ci vediamo domani alla solisora per una nuova ricettina chissà se sarà goloso anche quella guardate guardate e lo scoprirete a domani ma dove si va con questi biscottini? e si va a tavola ciao buon appetito buoni 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 una donna la buccia del la buccia del fornaccio ciao a tutti allora questo ora questo programma è stato offerto da Prato Service oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio Prato Service telefono 0574 26 702